Sulla risorsa idrica è il più grave fallimento della giunta Marsilio. Non solo si confermano la sottrazione delle varie risorse legate all'irriguo del fucino, a quell'investimento finanziato nella legislatura precedente con la giunta d'Alfonso di ben 46 milioni e mezzo di euro. Tra l'altro e inoltre si constata dalla risposta del vicepresidente imprudente la mancanza di una strategia che è l'altro elemento. Non si sa quando sarà disponibile il progetto esecutivo, non si sa quando quel taglio di risorse da loro apportato verrà ripristinato, non si conoscono quali azioni sono state messe in campo sul PNRR per la risorsa idrica, anzi si conferma che per quanto riguarda il settore dell'agricoltura i cinque consorsi di bonifica abruzzesi a valere su ben 1620 milioni di PNRR hanno portato a casa zero progetti e zero risorse. Il tutto con la non conoscenza purtroppo della visione della strategia sulle ulteriori risorse, parliamo delle reti idriche ad uso civile, che questa regione intende mettere in campo. In altre parole, hanno tolto quelle risorse che c'erano sul Fucino, 46 milioni e mezzo, hanno raccolto zero sull'agricoltura e non c'è una visione sulle risorse per quanto riguarda le reti idriche per uso civile. Un grande grave fallimento.